Nell'istante in cui l'anima ti sta lasciando, vedi la persona più importante che hai. Hai visto me? No, per fortuna. Allacciate le cinture! Capitano, il muso è incrinato! Fate attenzione! Svelto, apri un varco! Ne usciranno i feriti! Noi condividiamo un fine, salvare delle vite umane. Tu salvi i feriti, io salvo la squadra. Giao-chan! Hai mai pensato al motivo per cui lavoriamo così bene in squadra? Abbiamo tutti fiducia gli uni negli altri. Abbiamo tutti delle sfide nella vita. Questa è la mia. State giù! Questa è un'emergenza, pronti a ritirarvi subito! L'Arca non sta cedendo, abbandona adesso! Sììììì!